2014 febbraio, una meravigliosa giornata dell'eternità, dicendo una meravigliosa giornata dell'eternità e uno dovrebbe essere pieno di gioia, entusiasmo e invece qualcuno che sa noia, quindi parliamo della noia, però voglio parlare della noia, della rabbia e un gusto superiore, cosa hanno in comune? Allora vediamo cosa c'è, perché la noia porta alla rabbia, noi vivendo in questo mondo materiale, viviamo in un mondo a rischio, rischio di caduta, ci sono persone che sono morte cadendo in casa, non in giro nel mondo, in casa, scivolati, caduti, morti e li chiamano incidenti domestici, quindi uno deve stare attento, stai attento, stai attento, stai attento. Allora quella che è una vita normale, classificata normale, per molte persone è noiosa, hanno chiesto a chi scrive sceneggiature per film o telefilm, come mai c'è sempre il morto, il tradimento, il furto, la disgrazia, il negativo, perché se no la gente non guarda, ma perché? Perché si annoierebbe, cos'è la noia? La noia è uno stile di vita dove uno dorme tranquillo, si alza tranquillo, fa un lavoro tranquillo, mangia tranquillamente del cibo tranquillo, passa il sabato e la domenica tranquillo, d'estate va a fare una vacanza tranquilla e va al mare e non affoga nessuno, non prende un colpo di sole, fa colazione, pranzo e cena tranquilli, notti tranquille, alla fine uno gli piglia la noia, allora comincia a cosa del linguaggio, il linguaggio muove l'energia, come va una vita piatta, come va non succede mai niente, ne ho sentite io, come va il solito tran tran, come vuoi che vada è solito, c'è il solito, la vita piatta, perché se uno vuole fare delle cose in questo mondo materiale con un corpo fragile, come questo che abbiamo, rischia, allora la normalizzazione è non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro e la vita diventa piatta, normale, il solito tran tran, come la solita routine, poi ognuno c'è la noia, ognuno se l'è definita routine, tiriamo avanti, ecco c'è chi dice come va, niente di speciale, ecco allora cos'è il momento dove uno cerca di ammazzare la noia, tempo libero, quindi venerdì sera, sabato sera, carnevale, capodanno, ferragosto, il giorno del compleanno, San Valentino, ora c'è pure Halloween, hanno raccontato che c'era uno che era andato a una festa, organizzano gli amici prendono lui, lo portano in giro in qualche locale dove sono delle russe, delle moldave nude, piene di panna che tutti le leccano e questo futuro marito si è rubriacato per cui dopo quando l'ha riportato a casa, di notte parlava nel sonno, diceva il nome di questa russa, questa moldava, era quella che questo aveva incontrato la notte cos'è il nubilato, il celibato, con queste feste, per la noia, dove è lecito esagerare, perché? Perché c'è la noia, ma come va il matrimonio? Ma all'inizio, poi dopo una noia, allora arriviamo alla rabbia, la rabbia che cos'è? Che le cose non girano nel verso giusto, quindi uno cerca emozioni forti, perché se no è solita una minestra riscaldata, quindi sviluppa attaccamento e l'attaccamento porta alla rabbia, quindi la rabbia è distrutteva, la rabbia non va bene, non va bene la noia, ma non va bene la rabbia, allora perché ho detto il gusto superiore, semplice, perché in questo mondo materiale noi siamo multidimensionali, quindi quello che dico è, uno che vive in un appartamento tra i 50 e i 100 metri quadrati, l'unica evasione non è buttarsi dalla finestra, ma accende la televisione, quindi aprire una finestra nel mondo la televisione, ho parlato con persone e ho detto sai, qui la sera da solo a casa una noia, noia, se non accende la televisione cosa fanno? Allora io dico accendi te stesso, accendi la tua mente, accenditi, siccome noi siamo una realtà multidimensionale e ci hanno dato un limite, che è la sensorialità, i sensi, al di là dei sensi ognuno è abbandonato a se stesso, gira in un oceano misterioso, quello delle tante dimensioni, però tutti in questo oceano multidimensionale ci si perdono tutte le notti. Il sonno di molte persone è aiutato dall'alcol o dai sonniferi per andare a dormire e stimolato dal caffè per svegliarsi, quindi ci sono sostanze chimiche tra prima di dormire e appena svegli, perché lì entriamo in un altro universo, un oceano di dimensioni che nessuno controlla, allora lì arriva il gusto superiore, che cos'è? La noia porta alla piattezza, allora bisogna fare cose strane, no? Solo che se fai cose strane poi sviluppi attaccamento a cose strane, queste cose strane, non so, andare a 300 km all'ora con una macchina, con una moto potrebbe essere un'emozione che non ti annoia, però siccome è rischiosa ti puoi spaccare, buttarsi da parapendio ti puoi fare male, ti butti col paracadute, quando uno si butta col paracadute c'è sempre quella possibilità che il paracadute non si apre, c'è, però cosa bisogna fare? Bisogna capire che essendo multidimensionali la finestra sul mondo non è, poi la finestra sul mondo, la televisione ti fa vedere quello che vogliono loro, no? Il telegiornale ti fa vedere il mondo, però di che cosa è successo lì nel mondo selezionano 3-4 notizie, le solite negative e ti propongono nel negativo, che però è meglio della noia, cioè per uscire dalla noia ci vogliono emozioni forti, a questo punto che le emozioni forti siano distruttive o positive è irrilevante, irrilevante, c'erano quelli che aspiravano le vernici, le esalazioni di vernici tossiche, dici ma sono pazzi, perché quell'esalazione di vernice tossica ti crea uno sballo biochimico e ti fa avere dei flash, come degli orgasmi, come del stato di eccitazione che però come effetto collaterale ti distrugge la salute, come l'eroina, inutile dire l'eroina fa male, come effetto collaterale, ma quando la prendi ti fa uscire dalla noia, quindi la società della noia produce alcol, droghe, poi appunto quelli che addirittura se le costruiscono le droghe, oppure fanno cose strane, cose pazze. Poi dopo vengono tutti il lunedì, dal lunedì al venerdì ricompattati in una vita monotona, si chiama anche monotona, piazza, niente speciale, la noia. Oltre la noia e oltre la rabbia c'è un gusto superiore, però dopo alla fine, se veramente andiamo a vedere questo gusto superiore, il problema è il rientro, il rientro. C'è che ha avuto dei sogni così belli, così fantastici, meravigliose, colorate, indescrivibili anche, che egli è dispiaciuto svegliarsi. Ha fatto un sogno. Molti, tanti perché le statistiche parlo di milioni, oramai milioni di persone hanno avuto queste esperienze pre morte, infezione batterica, trauma cranico, emorgia cerebrale, arresto cardiaco, hanno avuto questa esperienza, si sono sentiti in un'altra dimensione, proprio reale e poi sono rientrati. C'è chi ha detto che è rientrato perché è stato risucchiato da un vortice, c'è chi ha detto, guarda il contratto degli altri esseri di luce che gli hanno detto tu qui sei di passaggio, non sei ancora pronto, un giorno tornerai ma devi rientrare. Quindi si sono sentiti come, no? hanno sentito un po' come quella tristezza di chi rientra da una vacanza meravigliosa, no? rientra a casa e gli sembra tutto triste, tutto, no? Cioè, uno che è mai andato in vacanza alle Maldive, in Thailandia, ai Caraibi, poi rientra nell'appartamento e gli piglia la depressione, no? Allora, se noi siamo multidimensionali la domanda è, ma qua cosa ci stiamo a fare? Questo che noi chiamiamo il mondo qua, se noi lo guardiamo bene ha delle caratteristiche, è dualistico, è caratterizzato da nascita malattia vecchiaia e morte, mettiamo che la vecchiaia la malattia la togli, nascita, vita e morte. La maggior parte delle persone non ricordano le vite passate, se uno dice di ricordare le vite passate viene subito criticato, cioè tutto quello che è la multidimensionalità viene visto come qualcosa di strano, c'è il ministro della sanità, del lavoro, pari opportunità, del turismo, spettacolo, sport, esteri, è il ministro degli esteri, non c'è il ministro della dimensionalità, diciamo, ma quello è campo della religione? No perché la religione è basata sulla fede, infatti le religioni vengono anche chiamate fedi religiose, io credo in Dio, bravo, io credo che Maometto è il suo profeta, bravo, io credo in Gesù Cristo, bravo, io credo, quindi la fede, tu credi, quindi sei un credente, non sei un esploratore, la differenza è che la spiritualità è un'esplorazione, quello che io so della multidimensionalità, cioè di questo c'è un infinito di varie opportunità che possiamo creare realtà, c'è, mentre io sono qua che parlo, Fabrice sta riprendendo questo video, beh, siamo già in due, ma c'è anche il terzo, quello che vede, quello che vede il video adesso, ma tu, tu, tu cosa stai facendo, tu? Stai guardando, ma cosa guardi? Un'immagine, poi chiederti, ma questo qui chi è? È vivo, è morto, cioè vivo nel senso, ancora vivo, ancora morto, non è morto, come ha vissuto, dove è? Uno mi ha scritto ogni tempo, ah ho visto il tuo video, ho visto il tuo video, vorrei vederti, ma gli ho rispondo, ma non mi hai visto? era un modo di dire, no? Allora gli dice, vorrei incontrati, ma non ci siamo incontrati, eh? Allora ha detto, vorrei, cioè, vorrei incontrarti di persona, ma io, quella persona che tu hai visto nel video è la stessa persona che incontreresti, però ammettiamo per ipotesi che questo video fosse visto quando io sono morto, no? Morto si dice, ha lasciato il corpo, ma se ha lasciato il corpo dov'è? È in un'altra dimensione. Ammettiamo che questo video fosse visto mentre dormo, uno guarda che parlo e dormo, diciamo che in una stanza, io mi metto a dormire su un divano, uno guarda il video, da una parte vede a me che ne dormo e dall'altra vede a me che parlo. Allora, mentre nel video dico, sono qua in Italia, seduto su una poltrona col caro Fabrice che riprende, lì mentre sto dormendo dove sono? Uno sta solo, sta dormendo, ma dove sono? Cosa sta facendo? Bisogna svegliarlo? Chiederglielo. Solo che il risveglio, siccome non è una cosa facile e può essere un risveglio traumatico, uno non ricorda e se anche ricordasse cosa fa? Se io mi sveglio, adesso io mi addormento, poi mi sveglio e parlo, sai avevo una relazione con quella persona, ma dov'è? Sto parlando di una realtà che mi dicono non esiste, non esiste, te la sei sognata, te la sei immaginata, però mi ha affascinato. Allora molte persone legate a quelle realtà hanno scritto dei libri, hanno fatto scoperte scientifiche, hanno scritto canzoni, hanno fatto opere d'arte, hanno preso l'ispirazione Platone in quello che Platone chiamava il mondo delle idee, hanno preso l'idea e l'hanno trasformata in una realtà e poi vabbè, gli è piaciuto e si sono divertiti. Ma anche se io avesse avuto l'idea di fare sto tappeto e poi lo faccio, siamo sempre nel campo temporaneo, quindi se a uno piace la cioccolata e gli dai una stecca, poi una stecca, al giorno gli dice basta, ma non ti piace? Si però, guarda sono arrivato al limite, mi fermo. Quindi nel mondo materiale il piacere ha un limite, il gusto superiore è uscire dal mondo materiale, solo che uscire dal mondo materiale per molti che è morire, perché non c'è una cultura di viaggi fuori dal corpo. La sera io vado a casa, mi metto lì un'oretta tranquillo in una posizione serena, immobile e faccio viaggi fuori dal corpo, esco, esco. Esco come si esce di casa, prendi la porta, apri, chiudi, esci, qui esco e vedo esseri, mondi, dimensioni, realtà, assomiglia un po' alla televisione, televisione, visione distanza, ma lì ci entri proprio, ci entri e entrandoci vivi, cioè quindi è qualcosa che assomiglia a sogno ma non stai dormendo. Allora comincia a provare un gusto superiore, allora dopo comincia a capire ma questa realtà materiale che cosa è? È quella fondamentale? È quella chiave? perché qualcuno chiama questa realtà il mondo reale. Allora io dico noi non dobbiamo sottolottare la vita normale, anzi chiamiamola semplice, semplice. C'è una di Vicenza mi pare che mi ha scritto un email e ha detto Giorgio non riesco più a trovare il video dove tu dici si rallenta poi un'altra cosa ma non me la ricordo eh? Ma io quello che dico è rallenta, semplifica, stai leggero e sii felice, rallenta, rallenta, semplifica, stai leggero e sii felice. Solo che se uno rimane sul piano sensoriale sta seduto qui, da un po' si annoia. Allora c'è la televisione, accende la radio, fa le parole incrociate, mangia, telefona. Devo fare qualcosa, no? Perché tutto l'universo, tutto l'infinito è questa stanza, queste due stanze, questo mondo, questi vestiti, questi oggetti, queste persone qua. E' chiaro che allora ci usciamo, andiamo fuori, ma non fuori dal mondo, andiamo fuori di casa. E chi incontriamo? Altre persone annoiate che sono uscite. Allora per rompere la noia uno fa qualcosa di strano, comincia a bere dalla bottiglia di whisky. Si stupiscono perché i ragazzi nel 2014 perlomeno dicono che nel 2014 i ragazzi a 15 anni già bestemmiano parolacce, sigarette, alcol, perché si annoiano. Prima la vita essendo più dura fisicamente, materialmente, non c'era tempo da annoiarsi. Cioè la vita prima era più dura sul piano fisico, adesso è tutto normale. C'è chi non cucina, quattro salti in padella, prende roba già scongelata, scongelo, è tutto normale. Non c'è nessuna emozione forte. Non bisogna tirare su l'acqua dal pozzo, non bisogna spaccare la legna, non bisogna andare da mangiare cavalli, non bisogna lottare contro le bestie feroci. No, tutto semplice. Allora quello che nasce in una vita normalizzata, quando a 14-15 anni si accorge che ha un corpo e la vita è piatta, non succede in speciale, comincia a vibrare che vuole emozioni e allora le va a cercare nel negativo. Le va a cercare nel negativo. Perché se uno prende un bicchiere di whisky e lo butta giù, ha un bruciore, ha un bruciore. A dire una raffia di paralaccia, di bestemmia senza che nessuno ti rimprovera, ti senti forte, ti senti libero. Perché pensi, è come tirare una sassata contro una vetrina. Pensi, non è mia la vetrina, me ne frega a me. Ma questi gesti di squilibrio sono un tentativo disperato di cercare emozione. E la ricerca delle emozioni è inevitabile. Perché noi mangiamo, respiriamo, viviamo di emozioni. Quindi, se noi non ci alziamo a un livello superiore, quindi un gusto superiore, qua le cerchiamo. Inutile dire ah, la lotta alla droga. Poi vari tipi di droga. Perché anche andare a urlare allo stadio è una droga. Anche pensare di essere tifoso di una squadra è una droga. Tifo, tifo, una malattia. Tifo, tifoso. Fans è un diminutivo dell'inglese fanatics. Saluto i miei fanatici, guarda, saluto i miei tifosi, saluto i credenti, tutte etichette create per rompere la no, la monotonea. In realtà non bisogna mai perdere di vista la propria identità. Quindi il gusto superiore è poter entrare, uscire dalle varie dimensioni in modo reale, in tempo reale. io ho sempre sostenuto questo. Sempre vuol dire io da quando sono bambino ragiono così, penso così e vedevo come gli altri bambini, bambine o ragazzi, man mano che crescevano, venivano normalizzati per fare la stranezza, la cosa strana, una tanto, una volta la settimana, una volta l'anno. Penso che, ma non è che io non festeggio, ma tipo l'ultimo dell'anno. aspettiamo mezzanotte, aspettiamo anche le due, le tre, aspettiamo qualcuno, chi aspetti? Ci aspettiamo per cosa? Per celebrare un passaggio. Ma questo passaggio come avviene? sempre motivato dalla noia. Pur di rompere la noia, pur di uscire dalla noia, si fanno cose strane, che uno di solito non fa e ci sono morti e feriti. A parte che l'ultimo anno sono anche morti e feriti di incidenti, ma il morto è anche mentale, perché chi va a cercare nell'alcol qualcosa di diverso muore un po' al giorno, come chi va con la macchina veloce e si schianta o con la moto. o anche chi sogna, desidera, aspira, brama a farlo, ma non ha il coraggio di farlo. Quindi c'è la frustrazione, no? Certo che se fossi meno vigliacco, meno pauroso, meno fifone, mi butterei dal parapendio, ma perché cosa? Cos'è che assomiglia a questo parapendio che uno si butta nel vuoto, paracadute? Che noi possiamo uscire dal corpo. C'è una categoria di persone che non è stata ben studiata ancora, qualcuno comincia a fare qualche ricerca, però sono molto limitati, che sono quelli che tornano dal coma in modo consapevole, non quelli disfatti. Quelli che tornano dal coma dall'esperienza chiamata di premorte, in inglese è near death experience, esperienza vicino alla morte, qui l'hanno chiamata premorte, vabbè, near, vicino alla morte, quelli lì non gli viene più in mente di fare stranezza, non ha più paura di morire, perché hanno provato un gusto superiore. E qual è? Esistevamo, esistiamo, continuiamo ad esistere, tutti i parenti, anche i più stretti, sono compagni di viaggio temporanei. Anche il parente più stretto è come uno che incontri un quarto d'ora sull'autobus in proporzione allo spazio-tempo infinito. Chi è che sale su un autobus, parla cinque minuti con uno e scendendo piange perché lo deve lasciare? È impazzita, no? Cioè, però, dalla memoria che io, se ricordo bene, mi pare che lui abbia scritto una canzone dove abbia scritto lui, però anche altre canzoni, eh, non sue. In una ci ha scritto il nostro amor non potrà mai finire. Il nostro amor non potrà mai finire. Il nostro vuol dire di due, due chi. La maggior parte di quelli che escono in modo consapevole dal corpo per morire, morti, quando rivedono la loro vita nel mondo materiale dico, lontano ricordo, molti con brutta esperienza, io là non torno. Infatti questi delle esperienze premorte non vorrebbero tornare, sono come costretti. Però quando ci sono degli esseri di luce che dicono no, no, ma dopo tornerai, però adesso non sei pronto, no? E questi quando tornano cosa fanno? Gli strani no, parlano in modo più spirituale, perché poi queste esperienze premorte hanno preso buddisti, induisti, atei, credenti, protestanti, miscredenti, e tutti hanno avuto la stessa esperienza. Un mondo di luce, esseri di luce, ti sembra di comunicare con tutti, forse con la telepatia, non lo sai neanche tu, tutti che ti sembra di conoscere tutti. Un mondo di chiara luce, di luce tutto luminoso, poi ti ritrovi qui che per capire cosa sta pensando uno gli altri, devi chiedere cosa stai pensando, già perché quello te lo dice. Ciao, cosa stai pensando? Che ne pensi? Ma sei sicuro che riesci a dirti anche volendolo? Ci sono persone che anche volendolo non riescono a dirti quello che pensano, perché sono abituati alla diffidenza, alla paura, e se glielo dico, e se si arrabbia, e se è di qui, e se è di là, e chi lo sa. Per questo che poi dopo allora normalizziamo tutto, normalizziamo tutto, prendiamo tutto piatto, vai a lavorare, porti a casa il stipendio, stai tranquillo, stai tranquillo, dopo la vita assomiglia anche a un narcotico, no? Io non capisco quelli che dicono fumiamo droghe leggeri, ma non è già narcotico, cioè quelli sono narcotici, ma non è già narcotico la realtà qua, no? Sono quelli che hanno bisogno di farsi lo spinello, poi si addormentano sul di là con la bocca aperta, no? Dopo due ore si risvegliano con gli occhi e dico che sballo, quale sballo? Cioè io capisco gli allucinogeni, cioè poi la parola allucinogeni, cioè capisco delle sostanze psichedeliche, allucinogeni, ayahuasca, ayagee, allora quelli lì sono sostanze che agiscono sulla pituitare, sulla pineale, ti fanno fare viaggi fuori dal corpo e vedi delle cose, però anche lì c'è il mio amico Graham Encock ha scritto un libro sui sciamani, è andato a studiare tutti gli sciamani che usano sostanze per aiutarsi, però quello che le prende viene sempre una guida spirituale e ho visto che tutti descrivono la stessa cosa, cioè tutti da quelli che prendono i funghi nella buriata in Siberia, in genere sono sempre funghi, quelli che prendono il peyote, quelli che prendono alla datura, o a quelli che hanno preso la LSD, che è una sintesi della segla cornota, tutti hanno descritto, a inizio stai male, poi di colpo ti trovi in un'altra dimensione, vedi degli esseri, ci parli, vedi dei colori, tutto fantastico, appunto psichedelico, colorato, infatti tutta la cultura dei figli dei fiori, questa generazione anni 70 che usava questa sostanza, poi quando facevano i quadri, i quadri erano tutto arcobaleno, tutti i colori, c'era tutto lì, perché? Ma dove le hai visti sti colori? Eh in un trip, ho chiamato trip, no? Trip in inglese vuol dire viaggio, ho fatto un viaggio, ecco, Timothy Liri che io ho conosciuto, psichiatra, è stato definito da Nixon il più pericoloso essere umano al mondo durante la guerra in Vietnam, cioè non era il più pericoloso, non era Ho Chi Minh, il capo dei Viet Cong, o il generale Jap, capo delle truppe armate che ammazzavano gli americani in Vietnam, era Timothy Liri perché aveva detto che l'LSD guidato produceva internal freedom, libertà interiore, cioè e quindi che cosa… gli avevano dato questo LSD a lui per darlo ai criminali, lui dava ai criminali l'LSD e questi non so, si mettevano a levare i canarini, a coltivare ganofani, fare disegni della natura, criminali, serial killer, poi l'hanno provato loro e ho detto beh ma se fa effetto su di lui, prova eh? E poi l'hanno distribuito dagli studenti, no? E siccome era una ricerca che era stata sponsorizzata dalla CIA, CIA, Central Intelligence Agency, un'agenzia di spionaggio americana, causata la più grossa nel mondo, a chi l'aveva commissionata? Harvard, l'università più importante d'America del mondo e loro, tre psichiatri furono espulsi da Harvard perché avevano dato l'LSD agli studenti. E che cosa era successo agli studenti? ragazzi, nessuno litigava, andavano nei campus scalzi, si sdraiavano a studiare nei prati, abbracciati, tutti che si baciavano, si volevano bene, non c'era violenza, no? No, adesso bisogna proprio stroncare l'uso degli allucinogeni perché gli allucinogeni fanno male ai giovani. 20 anni dopo, quasi ogni tre mesi, qualcuno entra in qualche scuola onestita americana con un mitra e spara la legge. Gli allucinogeni che producono stati di coscienza espansi, dilatati, pacifici, psichedelici, colorati? No! Quelli che vanno a scuola a sparare… dato quello che vestito da Jolly è andato alla prima di Batman, pensavano che faceva parte della… la prima sera, nella prima rappresentazione di questo arriva vestito da Jolly, il nemico di Batman è ammassa 40 persone con un mitra, no? E all'inizio nessuno si era buttato per terra perché pensavano che sia parte del film, no? Cioè che certe volte Guerre Stellari, così facevano i film, dove la sera della presentazione arrivava uno vestito da Guerre Stellari, da robot, invece quello lì si era vestito da Jolly, è andato là… e quindi cosa succede? Che noi viviamo in un oceano di informazioni, se c'è l'appiattimento di queste informazioni è chiaro che c'è la noia, la noia produce ribellione, voglia di trasgressione, voglia di sballo e… come quelli che fanno il scambio delle coppie, no? Pare che in Italia ci siano centinaia di migliaia, non uno eh, centinaia di migliaia di persone che fanno il scambio delle coppie, io ti faccio scopare mia moglie, se tu mi fai scopare tua moglie, sai che sballo? Cioè… poi c'è i club, i privè, c'è tutta una rete di… poi questi qui… si chiedono… ma chi se lo chiede? Che gente è? Normale… ma… ma… ma perché lo fanno? C'è anche chi si è messo a fare le ricerche… ma per combattere la noia del matrimonio… ma quale noia il matrimonio? Noia… allora tu ti vas a scopare la moglie di un altro, no? Si… ci sono dei club, no? Camera da letto, tu vai con lei, io vado con lui… e che cosa fanno? no? La trasgressione… trasgressione… qui l'unica trasgressione se vogliamo usare è uscire dal mondo materiale, andare oltre, andare oltre, perché qua sennò quello che sembra trasgressione non è altro che un tentativo disperato di rompere muri dove poi dopo vai rimetterti, no? Cioè cerchi di sfondare un muro e poi lo ricostruisci perché dopo hai paura stare senza i muri… quindi è vero io scopo tua moglie, tu scopi tua moglie, però dopo io mi rimetto con chi? Con la tua… tu con la tua… io con la mia… ci vediamo sabato prossimo… è stato un piacere… che sballo… ma questa cultura da che cosa viene? Dalla appiattimento, dal livellamento, dalla normalità… io non ho la televisione, ma la televisione veramente… perché mi capita, se mi capita la guarda, se sono a casa io… ho colto frasi tipo la gente comune, ma chi è la gente comune? Sono i Vip, la gente comune, no? La gente comune. E che cosa succede? Che la gente comune si annoia, farebbe di tutto per diventare Vip, very important person, di tutto. Una ragazza deve fare sesso, ma figo di fare sesso, basta che diventa qualcuno, qualcuno cosa, conosciuto. E' chiaro che qua c'è uno schema spirituale inesistente, perché chi conosce se stesso conosce l'universo, chi è conosciuto da cento mila, un milione o dieci milioni di persone, apparentemente è euforico, però finchè non conosce se stesso è un disperato. Infatti la malattia dei famosi, invece di fare l'isola dei famosi bisogna fare la malattia dei famosi e la depressione, causata da due cose. Il posto dove sei tu lo vogliono altri, sei primo ministro, altri vogliono quel posto, sei l'allenatore dell'area nazionale, altri vogliono quel posto, sei il numero uno in classe, altri vogliono il tuo posto, quindi tu sai che altri vogliono il tuo posto. E in generale chi è che vuole il tuo posto? Quelli che sono vicini, mica quelli che sono lontani. E il numero due che vuol diventare il numero uno, prima te ne vai meglio. E poi l'altra depressione è hai convinto tutti, ma tu non sei convinto, un'autostima bassa. Adesso per fare una citazione ad hoc, nel 2014 continua il tour mondiale dei Rolling Stones. Allora i Rolling Stones, io quest'anno ho 68 anni, sono un po' più giovane del Rolling Stones, ma di poco. Kit Richards, il chitarrista, ha detto che l'unico posto al mondo, perché adesso questi qui hanno 52 anni di tournée che vanno in giro, ricominciano a marzo del 2014, in giro, Singapore, Nova Zelanda, Australia, in tour. Hanno fatto prima Europa, America, sempre in tour, no? Ma siamo a 72 anni, il batterista ha 73 anni, ma è in tour. Kit Richards, cioè Mick Jagger è il cantante, Kit Richards è il chitarrista, quello che fa le musiche. In un'intervista, pochi giorni fa, in preparazione di questa tour Singapore, Asia, insomma, dove ogni volta, al minimo che tirano 50, 100 mila, hanno fatto a Copacabana, anni fa sulla spiaggia hanno fatto un concerto con un milione e mezzo di persone, un milione e mezzo, cioè c'era una roba di due chilometri di persone, sulla spiaggia. Lui ha detto, l'unico posto al mondo dove io sto bene è sul palco, sul palco, no? Che suono? Allora, un altro potrebbe dire, ma come? Hai, non so, 500 miliardi, ognuno del Rolling Stones ha dai 300 ai 500 miliardi, perché sai, questi 50 anni che fanno soldi e non smettere mica, va avanti. Tu, con tutti i soldi, dice, no? Chi non capisce, ah, ma potresti goderti la vita, ma dove? Lui la noce di cocco, dopo un po', che noia. Cioè dopo tre anni, alle figi, che noia. Ah, ma sei una villa fuori Londra, bene, che noia. Quando è morto George Harrison, che si era ritirato a fare il contadino, il contadino, cioè il contadino, coltivava un orto, così, la moglie Olivia disse che il figlio Dani, per i primi dieci anni, siccome George Harrison era chiamato il quiet beetle, pensava che il lavoro del padre fosse il giardiniere, no? Che doveva che innaffiava, tagliava. Poi dopo, verso i dodici anni, gli hanno spiegato, gli hanno fatto vedere i filmati, che il padre era uno dei Beatles, cioè, lui era cresciuto in campagna, quel padre con un cappello di paglia che innaffiava, che tagliava, potava, che… Vado un po', la noia pure lì e ricomincia, no? Allora dice, l'unico posto dove mi sento bene sul palco e stai sul palco, no? Vai a vivere lì, porta il giusto il cappello, no? Cosa vuol dire? L'emozione, mentre chi è fuori dal palco pensa, ah quelli sono miliardari e famosi, quello lì l'unica emozione è suonare, poi è chiaro se viene più gente, ma dopo i 70 anni, anche se avvenissero dieci persone, quello l'emozione è in un gruppo suonare, poi è chiaro se vengono 50, ma no, quando c'hai i fari addosso, io ho provato, io ho incontrato Bob Dylan, avevamo organizzato per anni con i miei amici di Milano, insieme a Gliaro e Crisna, un catering service per questo rock star qua di vegetariano, quindi andiamo dietro il palco. Quando arrivò Bob Dylan, che poi ha detto che mangiava dopo la moglie e la figlia, ha detto, ah no, non, vedeva una roba degli arcris, due tavole di squisitezze, mangiamo subito. Lui ha detto, dopo, aveva questa armonica lì, la ghettana, gli stivoli, io l'ho seguito e lui è andato sul palco e lui non vedeva niente, c'erano quattro fari, vedevi quattro fari enormi e non vedeva la gente lui. Quindi la gente vedeva lui sul palco strailluminato, lì la gente non lo vedeva. Lui è iniziato anni fa un tour che si chiama Never Ending Tour, un tour senza fine, c'è un atto vicino. Ma il vero tour senza fine non è andare da un palco all'altro, da un concerto all'altro a suonare, è viaggiare, inteso vivere e viaggiare, la vita un viaggio stiamo viaggiando. L'errore che noi facciamo nel mondo materiale è che all'interno del viaggio ci mettiamo due parole che rovinano il viaggio, che sono partenza e arrivo. Noi dobbiamo eliminare queste due parole che nell'eternità non esistono, nell'eternità che esiste solo viaggio. Allora voglio vedere la noia dopo, perché dice come va? Che fai stasera viaggio? Chiaro che se sei mezzo hippie, penso viaggio, cosa prendete? Niente. Viaggio, viaggio, viaggio. Ma viaggio verso dove? Viaggio all'infinito. Viaggio. Quindi nel mondo materiale siccome noi come viaggio prendiamo un corpo e lo spostiamo, abbiamo solo concepito questo. Dov'è che vai a mettere il corpo? La gente dice vado a Torino, vai a portare il corpo a Torino. Sì, ma quelli che vanno in India ad esempio, gli dico prova a fare questa meditazione. Quale? Quando sei in India non pensare all'Italia. E' mica facile. Perché poi vedo che quelli che vanno in India, perché sono stato per decenni in India, pensano all'Italia. Cioè prima di andare in India pensano all'India, in India pensano all'Italia e tornati in Italia pensano all'India. Si chiama dissociazione mentale. Proviamo a pensare viaggio, viaggio, io viaggio. Che cosa fai tu nella vita? Viaggio. Sono un viaggiatore. Sapete qual è la caratteristica del viaggiatore? Che non sa noia mai. Il viaggiatore non sa noia mai. Perché viaggia? Infatti io adesso sono due anni che ho deciso che non esco dall'Italia. Molti mi dicono ma non vai più in India. No. Allora cosa fai? Viaggio. Dove vai? Qui. Siamo già in viaggio. La terra già gira, gira, è movimento. Pare, secondo statistiche che hanno fatto, che non tutti gli abitanti del pianeta Terra, in America poi che fanno le statistiche, un americano su quattro non ha capito che è la terra che gira intorno al sole. Purtanto, intervistato, non sapeva che la terra gira intorno al sole. Pensava ancora che è il sole che gira intorno alla terra. Perché diceva, ma non lo vedi? Guarda, tu dove ne mattia ti faccio vedere. Ecco lui, lo vedi? Guarda, sale, tra un po' c'è lui. Ancora, 2014, statistica, un americano su quattro non ha capito che è la terra che gira intorno al sole. Quindi noi stiamo già viaggiando a velocità spettacolare. In questo istante stiamo viaggiando. Ciao, sono in viaggio. Saluti in viaggio da Giorgio Cerquetti, viaggiatore cosmico. Ma cosa stai facendo? Sto visitando questo pianeta. Impressioni. Infatti è così, no? Sto qui, nei veda, è il pianeta mediano. Il pianeta mediano vuol dire che si può stare male e si può stare bene. Occhio che può andare male. Occhio che può andare male. Questo corpo che uno pensa che lo piglia, lo porta a Torino, lo porta a Milano, lo porta in India. Questo corpo qui è abitato da innumerevoli esseri chiamati batteri, germi, verus, che se prendono il sopravvento la prima cosa è che non riesci più a stare in piedi. Devi inclinarti. Stare in piedi vuol dire che la forza vitale è debole funziona. Quando comincia che la forza vitale è debole ti inclini steso. Vuol dire che innumerevoli entità viventi stanno sottraendo energia. Si stanno sottraendo. E' come se ci fosse una conduttura d'acqua e molti vanno a fare degli allacciamenti, poi all'ultimo apri il rubinetto non c'è una goccia, perché lungo il percorso qualcuno sta rubando l'acqua e quindi l'acqua non arriva. Oppure c'erano dei fiumi enormi, continuano a drenare l'acqua, quando arrivi alla fine del fiume e dicono ma qua non c'è più acqua, perché la pigliano lungo il tragitto. Così neanche questo corpo è nostro, perché per altre entità viventi è una casa, una casa in espansione, dove si fanno una famiglia, si fanno una comunità, noi la chiamiamo infezione, loro la chiamano abitanti, abitazioni, noi la chiamiamo focolare, loro la chiamano comunità, quindi uno non è sicuro neanche dentro il corpo. Allora dice ma com'è la vita qua? Ma certe volte va bene, certe volte va bene, in conclusione è meglio andarsene. Io quando sono andato in India c'era stato lo tsunami dove ogni famiglia lì nel Tamilnado ha perso almeno una o due persone della costa e abbiamo fatto fare da una pasticceria 500 scatolette colorate con dentro i dolci e un elastico. Adesso radoniamo tutti i bambini di un villaggio, glieli do, non rideva nessuno. Io in India 45 anni sono andato, c'è un bambino, gli devo fare vedere un dolce, ride anche se gli dai un pezzo di carta, non rideva nessuno. Allora ho aperto, farvi vedere, abbuzzavo una sorpresa. Poi un adulto si è commosso e ha detto ah ti ringrazio per quello che fai a questi bambini, non ridevano più, perché hanno visto che il mare gli aveva ammazzato un sacco di gente, il mare che loro vivono in riva al mare, amano il mare e visto che il mare, lo tsunami gli aveva fatto una devastazione. Eppure quando non c'è lo tsunami siamo in paradiso, sì siamo in paradiso, però quando è arrivato lo tsunami dice terremoto, quindi qui c'è rischio terremoto, rischio tutto. Cioè qui nel mondo materiale è un rischio contenuto. Dico ah prima o poi salta il vesù, salta tu, cioè prima o poi qua potrebbe saltare tutto. Cioè nell'equilibrio cosmico, se questo pianeta si disintegra non se ne accorge nessuno. Cioè proprio nell'equilibrio cosmico, nel sistema solare, se questo pianeta sparisse, Marte gira ancora, Mercurio, Venere, cioè Mercurio è quello più vicino, poi c'è Venere, poi ci siamo noi, noi, c'è la Terra. Sarà Togliese, c'è Marte, Giove, Saturno, Urano, ci sono ancora. Quindi qui è una bella casa, sì, è una bella casa temporanea, quindi com'è un pianeta mediano, puoi star bene, puoi star male. Allora nel tentativo di cautelarsi ci si costruisce una vita sicura. Allora la vita sicura ha un effetto collaterale, la noia, muori di noia e non uscire, non ti sporgere, tutto blindato, tutto sicuro, alla prima infezione, subito disinfetta, fa iperprotezione, stiamo attenti, i ladri, chiudi tutto, invitiamo amici, ma sono sicuri? No, allora me ne sto per conto a me. Massima sicurezza vuol dire isolamento, noia. Allora dopo, beh, non possiamo mica morire di noia, allora facciamo cose strane, no, facciamo cose strane. E allora cominciano esperienze forti, con forti effetti collaterali negativi, negativi. Perché non c'è nessuno che non ci abbia provato gusto con l'alcol, con le droghe, con le motociclette, con le macchine da corsa, che si è finito male. È partito da un gusto, ci ha provato gusto, si dice. All'inizio ci ha provato gusto. Solo che nel mondo materiale quello che sembra piacere gusto presenta innumerevoli effetti collaterali. solo che la cultura che spaventa... Io in un certo senso penso che quelli che spaventano di più sono quelli che parlano di Dio. Dicono Dio è buono, Dio è tuo padre, Dio ti ha creato, però molti non hanno il coraggio di dire dov'è. Allora presi dalla rabbia dicono che non esiste. No, che si esiste. Cioè io sono cresciuto tra quelli che dicevano essere credenti e atei. Se mia madre diceva essere credente, mio padre è ateo. Però cosa gli dici? A quello ateo cosa gli dici? E' il credente? Bisogna dirgli tu sei un credente sì, ma l'hai mai visto Dio? No. Qui tu sei figlio di Dio? Sì. Non hai mai visto tuo padre? No. Però è buono. E' buono ma non l'hai mai visto. Però se tu riproducessi nel mondo materiale la stessa dinamica e dici mio padre è buono sì, mi ha generato sì, però non l'ho mai visto cosa dici? Eh ma come? Non l'ho mai fatto io? Neanche il compleanno? No. Ma è un regalo? No. Quindi, attenzione a essere credenti, perché secondo me essere credenti e essere atei è uno effetto collaterale dell'altro. Infatti vedi la donna in genere credente e il mio marito ateo, i miei genitori, no? Io ci ho messo anni a chiedere con calma a mia madre Vincenzena, prima che morisse, no? Molto prima, perché poi quando è morta e morta ha detto che seguiva quello che gli ho detto io, cioè siamo in viaggio cosmico, questa è una tappa del viaggio puoi anche non tornare, è unico obbligatorio. Ma tu perché segui e dici? E' perché ci hanno insegnato cos'è? Alla fine quando aveva sui 70 anni circa, sui 70, più o meno diceva, ci hanno insegnato così, hanno sempre insegnato così, io dico Dio mio aiutami tu, no? Si ma dico hai una prova? No. Allora puoi dire, probabilmente Dio esiste, io non ho prove, non ho esperienza, non ho rapporti e questi che fanno i ministri di Dio, i ministri di Dio, i rappresentanti di Dio, aiatollama, hanno detto che vuol dire la voce di Dio, il profeta di Dio, il Messie, cioè quello che parla. Quindi la spiritualità secondo me è la nostra vita quotidiana, noi essendo spiriti in ogni momento da incarnati o da disincarnati, da svegli, da addormentati è spirituale, perché noi siamo spirituali, solo che senza la conoscenza giusta viviamo così. E siccome c'è pericolo, allora uno si rifugia nella cosietta normalità, poi si annoia, poi comincia, gli piglia voglia di trasgressione, poi dici oddio cosa ho fatto, no? Perché le persone più sono famose, ricche, fanno scandali, ma non perché scandali, perché devono vendere ai fans, al loro pubblico, hanno fatto una vita piatta, monotona, che loro non praticano, che loro non praticano per niente. Cioè finché abbiamo in Italia un capo dei stati, cioè il Presidente della Repubblica che dice che bisogna fare sacrifici, vive in un palazzo che prima era del Papa, poi del Savoia, adesso suo, il Quirinale, il Quirinale, solo lui mi pare che prende 20-25 mila Euro al mese, 20 mila Euro al mese e a fine mese paga la bolletta del Quirinale, no? Pagano, quindi non pagano niente. Cioè vinto, alloggio, guardia del corpo, viaggio, è tutto pagato, in più c'ha pure lo stipendio. E dice, è un momento difficile, cari italiani, bisogna fare sacrifici, ma che cosa c'è? Quale sacrificio? Cioè lui ti propone una vita normale che lui non fa, è tutto meno. Per questo che io dico, se vuoi capire se qualcuno può essere una guida spirituale, un compagno spirituale, un maestro spirituale, cioè che ti può insegnare qualcosa, stacci un giorno insieme, una mezza giornata, due, tre, meno, una settimana, mettiti lì, guarda come mangia, come vive, come si veste, cosa tocca, cosa fa, perché se no lui sta recitando una parte. Allora io quello che dico è, stai guardando un video, potrebbe essere un film, Giorgio Cerquetti, un grande attore, che cosa fa? Fa, sta recitando, sto recitando, ma io non recito perché non c'è un copione, io sono qui adesso e dico, occhio, la noia porta la trasgressione alla rabbia, bisogna puntare a un gusto superiore. Il gusto superiore è quando tutti i vortici energetici, noi siamo sette vortici di energia, vibrano allo stesso livello che è il livello dell'espansione, quindi chakra. Quindi se noi viviamo in modo sciolto naturale, la vita è bella, ma perché le persone vanno una settimana in vacanza in un villaggio turistico, vanno in vacanza in crociera, diventano amica di uno, che mangiano due sere al tavolo con uno, sviluppano subito una relazione, stavano dieci anni vicini di casa di un altro, non c'è una relazione. Perché? Perché? Perché lì pensano che sono in viaggio, lì pensano che sono in vacanza. Io e da quando sono bambino che 24 ore al giorno ho un programma e lo sto seguendo, vivere in modo sciolto naturale e invitare gli altri a fare la stessa cosa, spiegare a tutti siamo di passaggio. Ma non è un lavoro, poi io dico ma che lavoro fai? Lavoro 24 ore al giorno, no? Questa è la mia vita, la mia vita è il mio lavoro, il mio messaggio. E che cosa vedo? Che sempre più persone capiscono. Perché? Perché i tempi sono maturi, perché c'è YouTube, c'è i libri, c'è la comunicazione scritta. Uno prende un libro, se lo legge, se sono vivo gli rispondo, se sono morto leggi te lo stesso. Questo è il momento magico. Il momento magico non è un film, non è neanche un documentario. Questa è la realtà che ti arriva in questo istante e ti dice stai attento, tu con pensieri, emozioni, parole, cibo e azioni crei la realtà. Non ti va? Non ti va? Fai in modo che il pensiero sia positivo, emozioni positive, parole positive, cibo, positivo, azioni positive, ma in modo consapevole. Al costo di fermarsi riguarda tutto e aggiorna la tua vita. Però molta gente si fa del male quando mangia, cibo, quando pensa, pensa negativo, quando parla, parola negativa. E' come dire, ah io voglio vivere senza paura. E' negativo dire questo. Allora cosa devo dire? Voglio vivere con l'amore. Perché dove c'è l'amore l'amore? Non ci può essere la paura. Non voglio vivere al buio. Perché usi parola così? Allora cosa devo dire? Voglio vivere alla luce, no? Cioè bisogna sempre usare un linguaggio, un'informazione che crea. Cioè l'infinito è un esempio che non è che a me calza, però insomma è più terra terra. E' come fosse un e mezzo computer immenso, gigantesco. Quello che ordini, quello che clicchi, quello che scrivi viene fuori. Noi diciamo Aladino la lampada perché non c'è il computer. Deve sfregare la lampada perché la lampada fa più luce, viene fuori il genio. Qui c'è tutto l'universo è a tua disposizione, ma devi capire che l'universo, l'infinito, costituito da varie dimensioni, lo puoi conoscere, toccare, gustare, trasformare, ma non lo puoi possedere. Per questo io dico, io ho scritto dei libri, se uno il libro dice che l'ha scritto lui, a me va benissimo. Si dice, prendi il libro, cambia il nome, mette il suo, basta che questa informazione, a che serve? Il nome è così, Giorgio Cerquetti è un nome, mi è stato dato, lo uso, ma che cos'è? La cosa più importante non è il nome, non è la forma, ma è l'essenza, è la coscienza. Quindi stiamo viaggiando e la rabbia fa male tanto quale la noia. Ma viene prima la noia o la rabbia? La noia. Quindi chi ti annoia ti sta caricando di rabbia. E quindi bisogna creare, vivere in modo sciolto naturale, usare i colori, i sapori, le compagnie. Ogni volta che un uomo e una donna si abbraccia, anche forse un minuto, trenta secondi, sono una coppia. Quindi lui dice, io sono singolo, e fatti un minuto da coppia, ci abbraccia per... Allunghi la mano, se quella non è paralitica, allunghi pure lei, prima o poi, allunghi questa mano, sorridi, Siamo una coppia e come tutte le coppie, ogni incontro porta una separazione e ogni separazione porta un incontro. Questo è il ritmo cosmico, no? Cioè contrazione, espansione, contrazione, espansione. Poi per comodità possiamo vivere insieme, ma non riesce a vivere insieme a nessuno chi non riesce a vivere con se stesso. E per vivere con se stesso bisogna ragionare da viaggiatori, no? C'è posto, prenotato, dove vai? E questo viaggio dice, dove vai? Vado a lasciare il corpo. Ah, anch'io? Ah, bello, bello. Ma dove lo lasci? E non lo so. Famiglia delle bigliette, no? Quindi noi qui non abbiamo neanche la consapevolezza di quanto dura sto viaggio e uno ci costruisce sopra innumerevoli illusioni. Se invece noi sviluppiamo la mentalità del viaggiatore cosmico, cioè la vita è un viaggio dove bisogna eliminare due parole, arrivo e partenza, o se le vogliamo usare in modo così divulgativo, possiamo usarle come nascita e morte, no? Cioè uno è nell'aldilà, parte dall'aldilà, entrando nell'aldiquà nasce. Quindi, allora la nascita può essere rispetto all'aldilà un arrivo, oppure uno la vede come una partenza, no? A seconda delle prospettive. Quando muori cosa fai? Può essere un ritorno oppure se n'è andato, si è tornato. Ma non in cielo, perché molti chiamano cielo, anche il Papa, vedo che dice il bambino è morto in cielo con Gesù. C'è un'altra dimensione che contiene questa, ed è quella dove uno sogna, quando il corpo si ferma, uno vive in quella dimensione che è qui, perché si assumette a dormire e tra mezz'ora mi sveglio e dico cosa ho visto. L'ho visto da qui, non è che sono andato là a vederlo, da qui l'ho visto. C'è un'altra dimensione in cui vivono innumerevoli esseri disincarnati, dove noi vivevamo e possiamo tornare a vivere. Ma il vantaggio è che noi possiamo vivere adesso, febbraio 2014, che ha un corpo, no? Può vivere sia con la coscienza incarnata che disincarnata simultaneamente, no? Cioè bisogna che noi ragioniamo contemporaneamente da incarnato e disincarnato, no? È un po' come quando andiamo in un paese straniero, se noi andiamo in Francia siamo italiani in Francia. Non è che dici io sono in Francia quindi sono francese, no, tu sei italiano in Francia. Quindi noi siamo spiriti eterni nel mondo materiale. Quindi dobbiamo ragionare sia da spiriti eterni sia da incarnati. Quindi il corpo va amato, rispettato, curato, ma mai perdere di vista il legame. Che però questo legame un giorno finisce. Ecco, quando questo legame finisce, morto. Quando finisce parzialmente, dorme. Quindi bisogna associare dormire e morire. Però per farlo bene bisogna imparare a sognare. E su te questo video qui quanti lo vedono? Ecco, è facile perché su YouTube ti dice anche quanti lo vedono. Quindi amore e buona energia a te che stai guardando. E se vuoi guardarteli tutti, YouTube Giorgio Cercoetti Video. Grazie a Fabrice Calimette. Grazie Fabrice. Grazie a Fabrice. Grazie a Fabrice.